Io ho riacquistato il piacere di andare a scuola, non avrei mai pensato di poter ritrovare questo piacere. La scuola è molto diversa da quella italiana, le lezioni sono più pratiche e c'è un ambiente molto positivo e stimolante. Posso dire di aver avuto un'esperienza molto positiva, ho conosciuto nuove persone, ho scoperto un sacco di nuove cose. E diciamo che per adesso mi sto trovando veramente bene, sia con la famiglia che siamo stati super disponibili, super accoglienti, quindi i primi giorni, sia con me che con le ragazze spagnolative con me. È proprio bello, è proprio come essere a casa, quindi ci fanno sentire veramente nella loro famiglia e è bellissimo. Sono particolarmente fortunata perché la mia host mom è di madrelingua francese e il mio host dad è di madrelingua inglese. La mia host mom è pazza di me, il mio host dad pure. La mia esperienza qui assolutamente mi sta cambiando la vita, mi sta cambiando il modo di vivere me stessa perché ho scoperto l'arte della mia personalità che non pensavo di avere.